Diciamo, non mi presenterò in realtà nel dettaglio, anche dirò qualche cosa, ma insomma l'università, immagino che il sistema universitario ormai più o meno l'abbiate compreso. Mi scuso, in realtà le slide sono in inglese perché molti dei corsi della magistrale in realtà sono tenuti in inglese e poi fanno la stessa presentazione. Allora, qual è lo scopo in realtà di questa centina di minuti in cui ti presento? In realtà è molto difficile presentare i nostri corsi magistrali, anche perché appunto per dire il corso, quello in informatico, credo non c'ero, ma immagino che Sabrina l'abbia detto, è molto libero, quindi potete far scegliere cose anche piuttosto diverse tra di loro. Quindi, diciamo, non c'è un fil rouge di cui posso parlarvi qui. Quello che però posso dirvi appunto è darvi qualche informazione che spero sia utile per dare anche senso, perché secondo me, diciamo, la cosa più importante che voi dovete sempre cercare, in realtà è il senso delle cose. Poi, in realtà le cose che studiate, a parte che in un mondo come il nostro, molti dei dettagli cambiano, anche se le cose importanti sono piuttosto stabili. Però, diciamo, quindi molte cose passano. Però invece il fatto di capire che perché anche la gente fa, diciamo, determinate scelte, invece quello, ecco, quello rimane e in realtà appunto immergersi in questo modo di pensare, modo di capire che cosa c'è dietro scelte tecnologiche, scelte progettuali, eccetera, secondo me arricchisce molto. Allora, diciamo, il primo messaggio che vi voglio lasciare è innanzitutto che non siete soli davanti a Moloch, che può essere quello degli studi universitari. Allora, diciamo, la paura, il fatto di perdersi, di non essere anche un certo senso magari di inadeguatezza, questo a volte è un sentimento che attraversa gli studi appunto trennali, cioè quelli iniziali. Voi dovreste aver già superato questa, però nella magistrale c'è un altro pericolo. C'è il pericolo quello di pensare di, se volete è un po' il pericolo opposto, quello di pensare di aver capito come funziona e quindi di ritenere possibile farcela da soli. Allora, vi laureate voi, quindi vi laureate da soli, certamente, ma l'università, gli studi universitari sono in realtà un lavoro, non di squadra, perché appunto si lavora da soli, ma è molto importante che voi all'università non solo maturiate come individui, ma che in realtà cerchiate, troviate, formiate i vostri legami anche come comunità di informatici, non so come dire. Cioè, l'università vi dà questa opportunità, il fatto di, perché noi insistiamo moltissimo, Voi non c'eravate, ma stamattina è stato detto un sacco di volte, venite a lezioni, venite a lezioni, venite a lezioni all'università. Lo ripeto anch'io, ma non tanto perché è importante venire a sentire quello che dicono i professori. Forse quella lì è quasi la cosa meno importante, nel senso che è quella più sostituibile dallo studio sui libri, da, adesso ci sono, abbiamo le registrazioni, c'è un sacco, quindi diciamo, non è poco importante naturalmente sentire un esperto di una certa materia che parla, ma è davvero quella che al giorno d'oggi è più facilmente, appunto, replicabile o perché quella roba lì la si trova un po' sui libri, la si trova nelle registrazioni, eccetera. Il vero valore di venire, di sentire, è in realtà il fatto che innanzitutto potete interagire con la persona che presenta questa cosa, intanto c'è questo, ma soprattutto voi potete appunto creare legami, potete discutere, avete l'opportunità di avere un problema scientifico insieme ad altri. E questo è il salto di qualità, cioè capire che avete questo, il fatto di essere tutti coinvolti per esempio in un determinato corso, vuol dire che tutti in quel momento dovrebbero avere la mente in qualche modo un po', sappiamo tutti com'è, ma un po' orientata verso un certo tipo di problema. E quindi è un'opportunità fantastica per appunto scambiarsi idee, discutere, crescere insieme, perché appunto, se le persone le incontrate in metropolitana, non è detto che abbiano gli stessi interessi, problemi vostri. Se invece le incontrate in aula, sì. E quindi è quello che dovete sfruttare. L'università lascerà il segno nelle vostre vite, soprattutto se la sfrutterete così. Il fatto di dare, appunto, di leggere dei libri e di dare degli esami, ovviamente ha delle conseguenze, ma non è detto purtroppo che abbia delle conseguenze anche sul vostro modo di pensare. Se invece tutti i giorni discuterete di informatico con altre persone nella stessa situazione, quello vi cambierà e sarà quello che poi anche le, diciamo, il mondo fuori dall'università è contento di pagare. Quindi, don't panic e mi raccomando, non pensate, perché è una cosa, un errore in cui si cade spessissimo, non pensate che di poter studiare da soli, ok? Non perché non siete all'altezza di farlo, ma perché studiare da soli è appunto meno efficace, meno produttivo per gli scopi che l'università si portano. Per chi, diciamo, venisse anche magari a altre università, diciamo, in Italia più o meno l'organizzazione è la stessa ovunque, però con un po' di differenza, anche perché questa, diciamo, è una organizzazione relativamente recente. Diciamo, gli Atenei sono organizzati in tre livelli, ricordatevelo sempre, c'è il livello appunto dell'Ateneo, nel senso degli studi di Milano, poi c'è il livello della Facoltà, che è un raggruppamento di discipline vicine, voi siete nella Facoltà di Scienze e Tecnologie, la Facoltà di Informatica non esiste, ogni tanto sento questa cosa. C'è invece, appunto, un raggruppamento di, diciamo, fisici che sono qui, matematici che sono un po' più lontani, biologia, eccetera, e quella appunto si chiama Scienze e Tecnologie. In realtà la didattica è gestita da questo organismo, per quello lo cito, che appunto i corsi sono in realtà organizzati all'interno di queste, appunto, facoltà. E poi ci sono i dipartimenti, che invece sono gli organismi, la struttura, diciamo, organizzativa, che ha come, in realtà, poi si occupa naturalmente anche della didattica, ma siccome siamo in un corso di laurea, per dire, come il vostro, non ci sono solo informatici, la maggioranza sono informatici, ma non solo, ok? E quindi, in realtà, bisogna, per quello la Facoltà, tenta di mettere insieme competenze diverse. e il Dipartimento di Informatica, in realtà, appunto, è l'unità che dirige più che altro la ricerca, ok? Quello è la ricerca. E poi, cito anche, appunto, questa, appunto, le due missioni classiche tradizionali dell'università sono la didattica e la ricerca, ma sempre di più si mette in luce l'importanza di fare anche, appunto, questa terza, non si sa neanche dargli un nome, perché, quindi, è semplicemente, appunto, la terza missione, che è tutto ciò che non è quelle altre due, sostanzialmente, ed è, comunque, il tentativo, sempre più importante, di far passare all'esterno il valore dell'università, quindi, diciamo, il valore di ciò che si crea nell'università, perché, appunto, l'università non è solo un, diciamo, adesso, poi non vorrei offendere, però, diciamo, il valore etimologico della parola è quello, il conservatorio, quindi l'università non è un conservatorio di sapere, ok? È un generatore di nuovo sapere, e questo nuovo sapere, quindi, diciamo, ha anche bisogno di essere trasportato non solo dagli studenti in formazione, ma alla società nel suo complesso, quindi la terza missione, appunto, è quanto l'università cerca di fare per, appunto, mischiarsi al mondo esterno e non essere, diciamo, una torre d'avorio isolata. Va bene, qui ci sono un po' di link, ma le slide poi saranno online, e quindi ve li lascio, e anche, diciamo, i luoghi, per chi ha fatto qui la terrennale, credo siano abbastanza noti, per chi invece è nuovo di questo, diciamo, campus, campus, in realtà troverà che la maggioranza delle lezioni sono, appunto, in questo circondario. Adesso, questo è quello dove siete, tutte le, diciamo, la magistrale, quasi la totalità delle lezioni le troverete qui. Però, ecco, ci sono altri edifici qui intorno, soprattutto quelli del settore didattico, dove capita spesso di fare lezioni. È tutto qui, comunque, quindi, diciamo, non farete fatica a provare. Ultima parte delle cose che voglio dire sono, anche qui, per degli studenti magistrali forse note, ma vorrei farvi una piccolissima, veramente, panoramica della disciplina, perché, appunto, per capire dove siamo, capire il senso di quello che facciamo. Allora, questa qui è quella che di solito noi presentiamo come, appunto, una map concettuale dei concetti chiave dell'informatica. Scusa che... Ok? Allora, sono parole che, appunto, io non... Adesso lì ho messo le brevi descrizioni, ma mi aspetto che tutti voi, qualsiasi sia il vostro percorso col quale siete arrivati alla magistrale, in realtà siano parole che già conoscete e qui già avete, insomma, sono parte di voi, no? Hardware, software, la rete, naturalmente, quindi, in materia di protocollo, quindi di convenzioni, eccetera, gli algoritmi, gli algoritmi che sappiamo sono in realtà un concetto piuttosto diverso da quello di, in realtà, programma, cioè di qualche cosa che effettivamente possa essere eseguito da un dispositivo automatico. E poi questi programmi, in realtà, vengono, diciamo, attuati e quindi funzionano, eh? Sono, diventano dei processi in corso con le quali le persone hanno delle interazioni e modificano, diciamo, questi processi sono quello che poi ha, in realtà, influenza sulla vita delle persone. Ormai un'influenza che può essere anche sociale, eh? Quindi, beh, noi dipendiamo fortemente dai processi automatici con ciò che questo ne comporta. Quindi, diciamo, mentre forse nella triennale ci si ferma abbastanza questa, eh, mappa, eh? In realtà, nella magistrale è ben possibile, eh, uscire da questa mappa, perché appunto, diciamo, adesso stavo parlando, per esempio da questa parte, no? Questi processi, per esempio, hanno una notevole influenza sociale, eh, economica, eh, perché no, anche politica, e quindi, insomma, discutere e studiare questo tipo di problemi diventa infondamentale. E, in realtà, l'informatico può farlo anche con, appunto, una competenza. Quindi, diciamo, è interessato agli effetti che questo ha nel mondo, ma lo fa con anche, appunto, una solida competenza tecnica. Quindi, questo può fare veramente la differenza. Te dico due parole anche alla matematica, perché, appunto, eh, di solito, appunto, all'inizio è una delle cose che forse spaventa molti studenti e, eh, magari anche, eh, in parte, forse li allontana. Eh, chi è arrivato alla magistrale, credo proprio che ormai questa, diciamo, diffidenza rispetto alla matematica l'abbia in buona parte, eh, superata. Eh, ti voglio però ricordare che, appunto, la matematica, anche quando, in apparenza, non è uno strumento, in realtà, di lavoro quotidiano, quasi sempre, invece, lo è come strumento di comprensione. Ok? Cioè, la matematica è, per come la, diciamo, io non sono matematico, no? Quindi, diciamo, ne parlo da utente della matematica. Ma, per noi, appunto, la matematica è assolutamente un, uno strumento conoscitivo. Cioè, è un modo con la quale, eh, si riescono a descrivere in maniera più precisa che con le parole, eh, normali, i sistemi. Quindi, innanzitutto, appunto, è un mezzo col quale, eh, noi descriviamo le cose. E poi, in realtà, il fatto che le abbiamo descritte in maniera precisa ci permette di usare queste descrizioni, eh, per, per farci sopra dei ragionamenti, per capire, per esempio, eh, predire il funzionamento di alcuni sistemi, eh, per, eh, distinguere, per esempio, modelli dalla realtà, eh, quindi per fare ragionamenti di questo tipo, per, appunto, analizzare in generale le cose. Cioè, il fatto è che nel momento in cui sono riuscito a descriverlo con un linguaggio sintetico e, eh, preciso come quello della matematica tipicamente, appunto, ho, a quel punto degli strumenti, eh, di comprensione molto, molto maggiore. E poi qui naturalmente c'è, in realtà, quello, diciamo, tutto il mondo invece della materia prima dell'informatica, eh, che sono, eh, quindi, appunto, l'informazione che però, appunto, l'informazione di per sé è un concetto troppo astratto perché ci possiamo costruire sopra un, diciamo, di lavoro intero. E quindi, quindi bisogna probabilmente l'informazione a noi interessa, eh, nella maniera in cui è astratta dai dati, con i quali poi invece siamo capaci di fare delle, eh, dell'automazione, no? Quindi della, eh, dell'elaborazione automatica. Eh, dati che però di per sé non vogliono dire niente acquistano, acquistano significato e appunto potenzialità di interpretazione proprio grazie alla loro elaborazione. Ok? Quindi questa, questa appunto è una cosa che ha delle ripercussioni, eh, incredibili, eh, però appunto in realtà è proprio la ragion d'essere del nostro, eh, dei nostri studi e del, eh, delle cose che facciamo. Ecco questa è la mappa. Questa è la mappa e appunto è una mappa di cose che avete tutte già viste. Quindi, eh, ma cosa sono venuto a fare qui? Eh, come mai sono venuto a fare la, la magistrale? Ecco perché in realtà appunto questi qui sono i mattoncini che continuerete in realtà a rimasticare probabilmente, ma, eh, con delle visioni totalmente diverse. Perché appunto quello che succede negli studi, eh, avanzati specialistici è proprio quello che il, eh, ciò che prima era detto in generale, quindi diciamo a volte anche in maniera che sembra, eh, diciamo così, troppo lontana da un'utilità diretta, eh, invece nel, quando appunto si va poi a un livello specialistico, generalmente si riesce finalmente a istanziarla, diciamo, su un determinati problemi e anche a vederne appunto il senso, quello che vi dicevo prima, no? Vederne il motivo per cui quella roba lì la si fa in un determinato modo, in un in un altro. Perché andiamo avanti? Sì. Sì. Ok. Allora, ultime cose, ho finito, eh, no? E allora che cosa dovete, eh, questo lo permetto, dipende da voi, perché appunto, come vi dice, come abbiamo già detto, nella, nei nostri corsi magistrali voi avete molta, eh, libertà di scelta. Allora, questo, quindi questa slide, prendetela come un consiglio, ovviamente siete liberi di orientarvi in maniera differente. Però non dimenticate mai che tutto ciò di cui si parla oggi, che leggete sui giornali, domani potrebbe non, non, non essere più rilevante per nessuno, eh. Il, eh, adesso lì ho messo tre buzzword, no? Come spesso si chiamano in informatica. React, NFT, chat, GPT, allora sono sicuro che l'ultima l'avete tutti ben presente, ok? Però per esempio le altre due magari ve le siete dimenticati, ma NFT è una cosa di cui la, non, non secoli fa, l'anno scorso, due anni fa, tutti sui giornali ovunque parlavano di NFT, eh? Appunto ripeto, forse molti di voi non sono in grado di dirmi oggi, ma non di aver fatto un corso sugli NFT, ma di dire di che cosa si tratta, ok? Perché di queste cose basta, ci siamo già dimenticati, ok? Nonostante l'anno scorso o due anni fa quello che era, sembravano le frontiere della, eh, dell'informatica o comunque anzi NFT sembrava avrebbe salvato, eh, anche l'arte e altre, eh, altre cose di questo. Quindi attenzione a seguire le mode, ok? Eh diciamo ci sono un sacco di applicazioni innovative ed è importante, è importante che capiamo di che cosa sono fatte, ma appunto concentratevi non sull'applicazione del momento, ma su le idee che hanno dato vita a quella, a quella cosa. C'è veramente di difficile o di nuovo o di particolare dietro a una particolare tecnologia di moda in quel momento lì, ok? Quindi appunto io non, assolutamente non voglio dire di non occuparvi di quelle cose lì, ma occupatevene approfonditamente, quindi non per sentito dire, approfonditamente cercando di capire che cosa c'è dietro, quali sono le idee, perché si fanno così, perché quel farle così può avere un vantaggio rispetto a farle cos'ha e perché farle così può avere degli svantaggi rispetto a farle cos'ha, perché tutte le cose hanno anche degli svantaggi e mentre alla triennale va bene vedere solo i vantaggi, alla magistrale no, voi dovete in realtà maturare soprattutto un senso critico, eh, e quindi farvi una vostra opinione sulle cose. Quindi altra, altra cosa che appunto ho messo anche in verde perché ecco tenete, tenete sempre a mente, per voi, io lo so che qui adesso faccio la figura del, in qualche modo del vecchio trombone, peraltro almeno la prima parte della, della frase ormai è vera, però ecco tenete presente che durante la vostra vita raramente avrete ancora il tempo di approfondire delle cose che non vi sono immediatamente. Ok? Cioè più, più si va avanti nella, nella vita e più le urgenze del, del lavoro, della famiglia, di tutte e un sacco di altre cose importanti e belle della, della propria esistenza, costringono a fare tutte le cose seguendo appunto, diciamo, un criterio, un algoritmo di molto gridi di, 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 di massima urgenza, di fare la cosa più, più urgente possibile. Ecco, invece durante l'università avete ancora questa possibilità di, di, di approfondire, oltre alle energie mentali che alla vostra età sono diverse da quelle che appunto poi i vecchi tromboni hanno. Quindi sfruttatela a questa occasione, è la vostra occasione di andare a fondo alle cose e di maturare delle idee che vi resteranno per sempre. Appunto, non sprecatele per, eh, le versioni di NFT, sprecatele per, appunto, le idee che fanno quelle cose. Sprecatele, non sprecatele, investitele nel, per, per, per quelle cose. Ecco, vi lascio ultimo minuto con, eh, in realtà un piccolo esempietto banalissimo, se volete, ma che a me, eh, diciamo, suggerisce quest'idea che molto spesso i veri, eh, anche salti, eh, l'innovation lips, come li ho chiamati lì, eh, in realtà scaturiscono anche proprio dal fatto che si prende una cosa che ormai si dava per scontata, eh, e invece la si ripensa, la si riguarda in un'altra maniera. Allora, io non so, appunto, siete tutti un po' informatici, no? Ecco, e pensate che cosa è che diamo, eh, meno scontato, insomma, i, i, i numeri, i float. Porca miseria, i float sono una delle cose più scontate possibili, eh? Ci aspettiamo che ci siano ovunque, ci aspettiamo che ovunque siano fatti nella stessa maniera, eh? Ecco, eh, negli ultimi anni si è scoperto che quel modo di fare i float, eh, che è l'iter con lì 754, in tutti i linguaggi di programmazione sono così, eh, quel modo lì non va bene per l'applicazione di intelligenza artificiale. Perché? Perché paradossalmente uno dei problemi è che sono troppo precisi, ok? E troppa precisione causa in realtà l'overfit di questi modelli di apprendimento. Per cui, per esempio, eh, quello che hanno fatto Google, TensorFlow, si attiva, sono, per questo premio, che addirittura l'hanno anche implementato, no? Con dei, dei C-Pardware per, per le TPU, no? Eh, sono proprio questi, questi strumenti per fare queste operazioni, eh, anche appunto a livello arduo, perché ne servono, eh, tantissimi. E hanno, hanno ripensato al modo con cui rappresentiamo i numeri, eh, float. Hanno dovuto rappresentarlo perché appunto le esigenze sono nuove e quindi, diciamo, hanno messo quello che, diciamo, l'idea che vorrei lasciarvi con questo esempio, no? È che hanno rimesso in discussione una cosa che, appunto, forse voi quando le avete anche studiati, avete detto, ma eh, ma viene ancora a raccontare, eh, come si fa la, la rappresentazione mantissa, ma chi me frega, ma è della mantissa, dei, dei numeri float. Ecco, invece, è proprio questo che, che è il messaggio. Eh, in realtà, appunto, capire il perché una cosa è fatta così, mi permette di maturare, eh, la capacità professionale di capire che cosa può essere cambiato e che cosa no. Eh, per dire, appunto, il, 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 il modo di rappresentare i float in realtà è una convenzione come un'altra e una convenzione è nata con certi scopi. Se ne ho degli altri, probabilmente è meglio cambiare la convenzione piuttosto che adattarsi ad usare quella, quella che c'è. Ok? Buon, buono studio a tutti. Eh, e, eh, appunto, non sentitevi mai soli perché, appunto, gli studi fin dall'inizio, ma quelli magistrali ancora di più, in realtà, sono studi che facciamo insieme. Ok? Il, lo studio, appunto, del, eh, più, più avanzato è, e più è uno studio che, appunto, deve essere fatto insieme alla collettività universitaria. Ok? Quindi tutti gli strumenti dell'università, sfruttatemi, perché, appunto, sono la vostra opportunità di crescita e che poi si spera che vi rimarrà e, 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 e che voi userete per migliorare questa nostra società. Poi, alla fine, il mio interesse mio è quello. Va bene? Che ci pagliate le pensioni almeno, ecco. Questa è la cosa importante, no? Eh. Va bene. Buona, buon anno accademia. Grazie. Grazie.